certo, clicchiamo su next ora possiamo personalizzare il nostro personaggio possiamo personalizzarlo in altezza anche se però io mi sono fatto un nano e direi che non me lo voglio fare tanto alto possiamo caratterizzarlo nel fisico però bisogna aspettare che si carico queste cose all'appena scaricata dal primo avvio quindi capirete che un po' così ah si, ci sono dei preset per la lunghezza delle braccia la sottilezza delle braccia voglio bella robusta, no, è una femmina voglio bella magretta ok, e poi c'è i tatuaggi tipo qualcosa del genere, poi le cicatrici se non sbaglio no, non cambia niente boh, non cambia niente andiamo nelle opzioni della testa hair styles and color ah, ok ok, si può cambiare la pettinatura che è la cosa buona e giusta guarda quante fighe, anche se c'è un nano schifoso con dettagli face skin color andiamo un po' oh, gli occhioni dolci possiamo mettere no, 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 che faccio no, così sembra un gatto così sembra ancora di più un gatto questo sembra avatar questo è ancora più culto questo è stampa, è vero no, questo è carino vediamo un po' no, va bene questo possiamo anche impostare noi il colore della pelle ma così va bene le orecchie, vediamo un po' come vogliamo le orecchie le vogliamo, oh un coniglio o no le vogliamo così, no le vogliamo così le vogliamo abbastanza piccoline le vogliamo abbastanza piccoline questo penso c'è il migliore posso andare nei dettagli della faccia della faccia non voglio particolarmente cambiare qualcosa forse voglio cambiare no il vento mi va bene così che è abbastanza da donna da donna nana e le però le orecchie le voglio fare più piccole no no head size no no piccolina no si così va bene poi andiamo su armored dice ah quindi tipo colori standard gli è che un bel giallino che non c'era vedo andiamo con l'arancione andiamo in low no andiamo qui ci mettiamo qui ci mettiamo questo no 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 facciamo così così e così sì figo andiamo qui facciamo così così e così no no magari in questo così magari cosa di più scuro ho fatto un trasto ecco poi led gear al posto del rosso ci mettiamo il bianco e basta e le scarpe e le scarpe le scarpe al posto del marrone ci mettiamo sempre cose di più chiaro e qui al posto di questo ci mettiamo questo che è un po' più scuro ok mi piace e penso che possiamo fare next ok facciamo next select select background i wear on the battlefield because of this i'm requisite and giving proper respect io indosso puntini puntini nel campo di battaglia perchè eh perchè per questo motivo sono eh diciamo eh riconosciuto e mi danno il giusto rispetto poi c'è Splanger Helm eh che intimidisce gli avversari e inspira il rispetto per i miei per i miei eh alleati si senza il è più bella andiamo eh trouble might follow me but i use my my to overcomit eh forse sono tipo delle abilità speciali immagino allora vediamo un po' eh dignità ferocità oh charm charm penso sia eh non lo so pietà non lo so eh vediamo eh diremo che andiamo con ferocia bene ci fidiamo sono un membro del college dell'università di non è proprio del college diciamo della gilda eh statistica dinamica sinergetica mmm produsere gizmo makers energy eh not eh vabbè a caso my first invention was uh infinity board vai così my first advisor the one who told me almost everything they knew ok il mio primo diciamo insegnante è stato oh questa sembra Yoda ok che sei Yoda allora allora food trouble my follow me I will come to it allora eh pensando che i preplay li potrebbero seguire eh li diciamo ah no qui abbiamo reso conto di quello che abbiamo fatto poi dobbiamo scrivere il nostro nome che nome sarà sarà cacciotta ok siamo qui oggi per giocare con cacciotta next questo